Ormai è fatta, le voci si rincorrono e non arrivano smentite, la giunta regionale dovrebbe partire con tre assessori. I bagni chimici che avrebbero dovuto essere temporanei per consentire lo svolgimento della notte rosa di Isernia sono ancora posizionati dietro la fontana fraterna, attesa terminata per gli amanti del McDonald's, del fast food statunitense inaugurare la propria sede a Isernia lunedì 24 luglio. La popolare conduttrice televisiva a Campitello Matese per dialogare sui temi della valorizzazione e della tutela della montagna. Stefania Di Salvo, Isernina e moglie di Stefano Petracca, numero uno del CDA del Gemelli Molise, S.P.A. è la nuova presidente del Rimini Football Club. Bentrovati al concerto appuntamento con l'informazione di TV Molise. In apertura una notizia di cronaca, 30 scout intossicati mentre si trovavano in alta quota. È accaduto nel territorio di Castiglione Messer Marino, centro al confine con l'Alto Molise. Sono stati recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti, questi 30 scout di età compresa tra i 13 e i 16 anni, quasi tutti di Pescara che si sono sentiti male oggi nel corso di un campo estivo sulla Maiella. I minori hanno accusato dei malori in prossimità del rifugio del Cinchiale in provincia di Chieti. Uno di loro con il cellulare spostandosi in una zona in cui c'era il segnale telefonico è riuscito a contattare il 118 che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, allertando il soccorso alpino speleologico così come stiamo vedendo da questa foto immagine. Ed ora parliamo di giunta regionale, lo avete sentito anche dai titoli. Sembra fatta, sembra che il governo regionale Roberti abbia raggiunto la quadra per la nomina della giunta regionale. Si rincorrono diverse voci per le quali non arrivano smentite. La giunta regionale dovrebbe partire con tre assessori per essere poi completata dopo l'elezione del Presidente del Consiglio. Tra i nomi più gettonati al momento vi sono quelli di Micone, Marone e Dilucente. Ma sentiamo i dettagli da Enzo Di Gaetano. Si partirà con un esecutivo ristretto senza deleghe. Il cerchio dovrebbe poi chiudersi con Michele Orio e Andrea Dilucente in giunta e Vincenzo Niro come sottosegretario. Ieri sono scaduti dieci giorni dalla proclamazione previsti dallo statuto per la nomina della giunta. Termini non perentori che il governatore ha deciso di non seguire. Tuttavia entro giovedì dovrebbero esserci decreti di nomina in previsione del primo consiglio regionale di lunedì 24. E secondo i beni informati sarà un'aggiunta ristretta. Il Presidente dovrebbe nominare Salvatore Micone per Fratelli d'Italia, Gianluca Cefaratti per il Molise che vogliamo e Michele Marone come esterno per la Lega. Ai tre assessori però non verranno assegnate ancora le deleghe. Dopo la prima seduta del Consiglio, durante la quale ci sarà l'elezione del Presidente della Sise con Quintino Pallante in pole position, sarà nominato il resto della giunta e assegnate le deleghe. A completare l'esecutivo dovrebbero quindi entrare Michele Orio, che secondo i beni informati potrebbe ottenere la delega al PNRR, visti i collegamenti con il Ministro Fitto, e Andrea Di Lucente. A ricoprire la figura di sottosegretario potrebbe andare Vincenzo Niro. Se così fosse, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni, resterebbe fuori il solo Cavaliere. Poi bisognerà trovare un paracadute per Degidio, terzo in Fratelli d'Italia, che sarebbe l'unico degli eletti a restare col Cerino in mano. Intanto questa mattina c'è stato un confronto tra i tecnici del MEF e della Regione per il bilancio. Al Summit ha preso parte anche Cefaratti, impredicato proprio per l'assessorato al bilancio, ma per le ufficialità riguardanti l'esecutivo bisognerà attendere ancora qualche giorno. Il capogruppo della Lega al Comune di Campobasso, Alberto Tramontano, attraverso una mozione consigliare urgente presentata al Presidente del Consiglio Comunale, ha proposto di affrontare il tema del caro alloggi per gli studenti universitari fuori sede. A tal proposito, lo scorso 7 giugno ha affermato l'esponente della Lega, InVimit SGR, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha avviato una procedura di selezione di immobili attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti pubblici e proprietari di immobili per acquistarne su tutto il territorio nazionale da destinare in questo primo lancio alla realizzazione di residenze per studenti. Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il prossimo 4 agosto. L'amministrazione comunale di Campobasso, a concluso Tramontano, non può perdere questa occasione. Andiamo a Disernia. Sabato scorso ha riscontrato grande successo la Notte Rosa, che è tornata nel Centro Storico Pentro ed in particolare nella Piazza Celestino V, una kermesse che è stata organizzata dai locali del Centro Storico, ma anche con il contributo di altri commercianti, i Sernini e per noi c'era Cristian Ciarlante. Un grande successo per la Notte Rosa che sabato scorso si è svolta nel Centro Storico di Sernia, in Piazza Celestino V. Dopo anni di stop, il borgo storico della città è tornato ad ospitare l'evento che di fatto ha segnato l'avvio dell'estate nel capoluogo Pentro. La kermesse è stata organizzata dai locali del Centro Storico, con il contributo di altri commercianti della zona. I Sernini hanno vissuto un fine settimana all'insegna della musica, del ballo e del divertimento in una delle piazze più belle di Sernia. Una serata tinte rosa e magica con tanti giovani che hanno affollato la piazza fino a tardanotte per ballare e scatenarsi grazie a DJ set organizzati per l'occasione e che hanno visto come protagonisti i DJ storici come Luca Loprevite e Pietro Rama. È stato bello rivedere la Notte Rosa con il suo volto più normale, genuino e più bello. Con l'entusiasmo e l'energia innanzitutto degli operatori Sernini e poi la risposta calorosa della gente, tantissima, che ha affollato la piazza per partecipare all'evento. Appuntamento dunque all'anno prossimo e c'è da scommetterci che sarà un altro successo per una città che vuole sentirsi viva, soprattutto in estate. E a proposito di Notte Rosa, i bagni chimici che sono stati posizionati proprio in occasione di questo evento a Disernia ancora non vengono rimossi e si trovano posizionati dietro la frontana fraterna. Questo ha, come dire, creato, innescato qualche polemica. Vediamo il servizio di Carla Marino. Avrebbero dovuto essere operativi solo per consentire il corretto svolgimento della Notte Rosa tenutasi sabato 15 luglio in piazza Celestino V a Disernia. Lo aveva assicurato l'amministrazione comunale. Ad oggi, lunedì 17 luglio, i bagni chimici che tanta polemica hanno causato in città per il loro posizionamento alle spalle della fontana fraterna, uno dei monumenti simbolo del capoluogo Pentro, sono ancora sul posto. Resta ora da capire se trascorso il weekend con il ritorno della settimana lavorativa gli interventi di rimozione saranno predisposti in tempi brevi. Da Vespasiano a Vespaio di polemiche il passo è stato breve. Non si è fatto in tempo a installare le toilette mobili nel centro storico che subito sono arrivati sui social e soprattutto su Facebook i post con fotografie e commenti. Tra i primi a puntare il dito contro l'ubicazione dei vici chimici era stato il consigliere di minoranza Palazzo San Francesco Giovan Carmine Mancini che aveva contestato le scelte dell'amministrazione. Una location aveva sottolineato affacciata di fronte all'ingresso del Museo Civico che custodisce il sacrario con i nominativi dei martiri del 10 settembre 1943. A fargli eco il consigliere comunale dell'amministrazione da Pollonio, Nicola Moscato, che aveva precisato come in discussione non ci fosse l'utilità della presenza dei bagni pubblici a disposizione degli utenti della Notte Rosa, ma la scelta di una collocazione ritenuta infelice. E anche l'esponente di opposizione Cesare Pietrangelo attraverso Facebook aveva bocciato il posizionamento dei vici chimici. Una querel fuori luogo secondo il consigliere di Volt Umberto Di Giacomo che aveva parlato di solito veleno, di legge o critica vuota senza proposta. Non una critica politica dunque, ma piuttosto un ridicolizzare, dire male su tutto, bastonare senza pietà. Dall'amministrazione municipale attraverso il canale di Isernia Informa era stato precisato come la collocazione dei bagni nello spazio retrostante alla Fontana Fraterna fosse momentanea perché collegata appunto alla Notte Rosa. Un'installazione pensata per supportare il lavoro dei locali in previsione di un grande afflusso di partecipanti. Con i bagni si precisava che sarebbero stati spostati dopo l'evento. Una squadra dei vigili del fuoco di Termoli alle prime luci dell'alba di oggi è intervenuta per un incendio auto a Montenero di Bisaccia in via Don Luigi Sturzo di cui stiamo vedendo le foto. Il conducente ha riferito al personale dei caschi rossi giunti sul posto che durante il tragitto per raggiungere il luogo di lavoro ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano motore. Tempestivamente ha parcheggiato in un piazzale e subito dopo l'auto è stata avvolta dalle fiamme. Le cause del roco sono in corso di accertamento. E poi un'altra auto è andata a fuoco invece ieri pomeriggio lungo Lisernia Castel di Sangro nei pressi dello svincolo per Rione Rosannitico. Il conducente dell'auto, salvo per miracolo, è riuscito ad abbandonare il veicolo poco prima che le fiamme divampassero anche all'interno dell'abitacolo. L'uomo stava percorrendo la variante alla statale 17 direzione Isernia quando la Smart, così come state vedendo, ha preso fuoco immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Isernia e dei carabinieri. Come si può vedere da questo video, l'auto è andata completamente distrutta. Stefania Di Salvo, isernina e moglie di Stefano Petracca, numero uno del CDA del Gemelli Molise SPA, è la nuova presidente del Rimini Football Club che milita nel campionato di Lega Pro. Lo ha comunicato la stessa società Biancorossa con una nota pubblicata sabato scorso sul proprio sito ufficiale. Ringraziamo di cuore i tifosi e tutta la comunità del Rimini Football Club per il sostegno dimostrato anche durante la fase burocratica legata alla trattativa di cessione, commenta la neopresidente Stefania Di Salvo. Un ringraziamento particolare anche al presidente Alfredo Rota per l'ottimo lavoro svolto in questi anni. Stefania Di Salvo è la prima presidente donna della storia ultracentenaria del Rimini che si troverà a gestire l'eredità sportiva di una squadra neopromossa in Lega Pro lo scorso anno. Ed ora andiamo a Roccamandolfi. Il paese ha ricordato la figura di Daniele Berlingeri, titolare dell'azienda La Pecorella Nera e era un pastore molto conosciuto, le cui immagini sono state viste e riprodotte anche sulle televisioni nazionali. Il pastore è venuto a mancare sette mesi fa a 48 anni. Per questa occasione è stato proiettato anche il documentario La Via del Canto firmato dal regista molisano Pierluigi Giorgio e per noi c'era Fabrizio Fusco. Le millenarie radici del Molise della Transumanza proiettate sul grande schermo in chiave moderna nel documentario scenografato e diretto dal noto regista e attore Pierluigi Giorgio. Una sorta di musical in salsa molisana nato grazie alla collaborazione del gruppo pugliese dei Tarantula Garganica. Sabato scorso la presentazione della pregevole pellicola Roccamandolfi, La Via del Canto, il suo titolo che rende omaggio ai monti e alle valli della ventesima regione attraverso la narrazione vista con gli occhi dei transumanti di Greggi e Mandrie. Non parla soltanto di pastori, c'è anche tanta musica dentro. Questo incontro fortuito che feci sul tratturo con un gruppo di cantori musicisti pugliesi di Tarantula Garganica e questo tratturo chiaramente fa riferimento al discorso dei pastori, della transumanza, come cordone umbilicale che unisce due regioni, ne unisce chiaramente di più partendo dall'Abruzzo ma io mi riferisco a questo documentario in particolare, quindi le Puglie e quindi il Molise. Quindi incontrare dei pugliesi che vengono a conoscere il tratturo molisano e nello stesso tempo conoscono me, che narro storie lungo i tratturi, diventa nella storia che ho costruito stimolo per loro, a secondo delle emozioni che il luogo e i vari luoghi che visitano insieme a me gli dà, per cantare storie. Io narro storie e loro cantano storie. Tra i protagonisti, il pastore di Roccamandolfi Daniele Berlingeri, simbolo dell'area matesina con la sua azienda La Pecorella Nera, scomparso improvvisamente sette mesi fa. Emozioni fortissime fra i suoi familiari che al termine hanno ringraziato il regista attraverso la presidente della Proloco Giuseppina Berlingeri. La sua anima, detto Giorgio nel saluto finale, alleggia ancora su questo territorio insieme a quella di Pietro Ricciardone. Daniele Berlingeri, oltre a un amico scoperto poi mica tanto tempo fa, soltanto due stati fa, quando appunto girai questo documentario che abbiamo visto stasera, è una persona essenziale, una persona ricca, ricca di valori, ricca di parole non sempre pronunciate, ma le intuivi già in uno sguardo, anche nei suoi silenzi. Daniele Berlingeri, uomo reale di oggi, e il massaro che prende spunto nella narrazione dal tratturo di Franco Ciampitti. Si rompe un compressore, impianto di climatizzazione in funzione solo parzialmente all'ospedale Santimotio di Termoli. Sono stati operatori e pazienti, come riferisce TermoliOnline.it, a segnalare questo problema. La direzione sanitaria dell'ospedale ha già interessato l'ufficio tecnico per risolvere la questione. Torniamo a Disernia, attesa terminata per gli amanti del McDonald's, perché il fast food, proprio nel capologo Pentro, aprirà lunedì 24 luglio e ci aggiorna Carla Marino. Mancano ormai solamente gli ultimi ritocchi ed il McDonald's si appresta ad aprire i battenti a Disernia. Dopo pochi mesi di lavori, la filiale della più importante e più conosciuta catena di fast food del mondo si prepara ad inaugurare nel capoluogo Pentro. La data prescelta è quella del 24 luglio, come si apprende dagli annunci fatti dalla stessa società attraverso una campagna pubblicitaria di cartellonistica affissa nei punti principali del capoluogo Isernino. La notizia della realizzazione del punto ristorativo della multinazionale statunitense era stata data nel giugno 2022. Ne aveva parlato attraverso la propria pagina Facebook il consigliere regionale, sottosegretario alla presidenza dell'Aggiunta Roberto Di Baggio. La conferma a gennaio 2023 con il via libera alla licenza dato dal suo app Pentro. Se qualche scettico aveva ipotizzato si trattasse di una semplice voce destinata a perdersi per strada, si è dovuto ricredere in fretta dal momento che già alla fine del mese di febbraio erano partiti i primi interventi di sbancamento del terreno. Poco dopo, a maggio, la comunicazione da parte dell'azienda stessa attraverso il proprio sito internet dell'avvio della campagna di reclutamento del personale con la tappa in città del McDonald's Job Tour. 50 in tutto i dipendenti richiesti per i ruoli di crew e addetti alla ristorazione destinati alle mansioni di sala e a quelle di cucina. Dopo una prima fase di selezione online con questionario e curriculum è stata la volta dei colloqui effettuati presso l'auditorium Unità d'Italia di Isernia. Il cantiere nel frattempo è andato avanti a ritmo serrato tanto che le attività di costruzione della struttura sono state svolte in tempi ristretti rispettando in pieno le tempistiche che erano state previste già a febbraio e che indicavano la fine del mese di luglio come data stimata dell'entrata in funzione del fast food. Per gli appassionati del Big Mac, dei Chicken McNuggets e dell'Happy Meal dunque non resta che pazientare ancora qualche giorno. Lotta allo spaccio di droga i carabinieri di Isernia hanno denunciato una coppia e due giovani perché trovati in possesso di hashish e cocaina. I due sono stati beccati mentre si aggiravano in una zona nota ai fini dello spaccio. Inoltre un giovane spacciatore è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish mentre si trovava in un bar cittadino e di un bilancino di precisione rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare. Infine un giovane di origini straniere è stato sorpreso in due episodi distinti nell'arco di un mese a fare uso di hashish. Dialoghi in altura con Licia Colò, la popolare conduttrice televisiva è stata a Campitello Matese per dialogare proprio sui temi legati alla valorizzazione e alla tutela della montagna e ai microfoni del nostro Domenico Marzocchella ha avuto delle belle parole per il nostro Molise. Cento e più persone in cammino sul verdeggiante pianoro di Campitello Matese in fila seguono una guida d'eccezione. La sua chioma bionda, resa scintillante dai riflessi del sole si distingue chiaramente dalla spianata degli alberghi distanti centinaia di metri. Licia Colò, la popolare conduttrice ed autrice televisiva volto noto e tanto di trasmissioni di successo dedicate alla natura tra queste Gheo & Gheo, forse la più nota ha inaugurato il primo appuntamento con Dialoghi in altura l'intento, rimarcano gli organizzatori di Montagna Molise quello di parlare di natura nella natura valorizzazione della montagna di pari passo con la tutela e la sostenibilità i temi del confronto al cospetto dell'uditorio che insieme alla gradita ospite è arrivato nella splendida location scelta per l'incontro la sorgente di Capodacqua noi poco prima di metterci in marcia ne abbiamo incontrato alcuni è un vero piacere fare questa passeggiata qua a Campitello Matese sul pianore di Campitello Matese con Licia Colò perché Licia Colò, io la ricordo, da quanto faceva Gheo & Gheo io ero un suo grande ammiratore per i temi, per le tematiche che trattava quindi per me è un'emozione molto forte un bel posto dove venire a trascorrere qualche giorno in pace, in serenità ma il Molise è tutta una serenità, una pace, una natura incontaminata è il suo periodo per il Molise con Licia Colò la scoperta di Campitello Matese, del pianoro una bella occasione da non perdere sì è vero, un'occasione soprattutto perché Campitello è stato sempre più rivalutato negli ultimi anni quindi sono contentissimo noi abitiamo, abbiamo la casa qui per tanto tempo, diciamo, quello che abbiamo visto è che c'era poca presenza di persone però devo dire che ultimamente la zona è stata rivalutata infatti è un orgoglio essere oggi qui perché da sempre seguo Licia e non potevo di certo perdere questa occasione poi anche perché sono originaria del Molise quindi questa è la mia montagna e grazie al mio ragazzo oggi mi ha regalato questa giornata non lo sapevo neanche, ero venuta a sorpresa però ne vale davvero la pena abbiamo fatto parecchie ore di viaggio perché non stiamo più in Molise ed ecco Licia Colò con il suo garbo e il suo sorriso ha subito conquistato tutti questa simpatia e questo calore è inatteso ovviamente il posto è stupendo credo che sia un evento molto bello incontrare tanta gente in mezzo alla natura perché un anfiteatro così è una cosa eccezionale bisognerebbe promuovere uno sviluppo corretto, sostenibile ma purtroppo se la montagna non viene vissuta e viene proprio lasciata da una parte alla fine la montagna muore perché noi siamo preponderanti in questo territorio cioè distruggiamo qualsiasi cosa se non la usiamo la distruggiamo quindi bisogna imparare a usarla in maniera corretta Lei è un abitué qui in Molise cosa le piace di questa regione? Abitué è una parola grossa non sono un abitué il Molise ha tante cose mi piace che sia poco conosciuto rispetto al potenziale che ha e questo è bello mi piace il calore della gente poi insomma magari è un po' scontato mi piace come si mangia non si vengono a fare le diete in Molise assolutamente no e poi comunque la cosa più importante è quella che ho detto all'inizio riserva tante sorprese Sì alla transizione ecologica ed energetica no alla trasformazione delle nostre campagne fertili alla bellezza delle nostre colline in discarica energetica sia all'offshore sostenibile compatibile con le attività turistiche e di pesca il Comitato 4 giugno chiede al Presidente della Regione e alla politica di onorare gli impegni presi in campagna elettorale per questo il Comitato chiede un incontro urgente al Governatore Roberti alla sua maggioranza consigliare e alla stessa opposizione per affrontare la complessità legata a queste tematiche un 35enne caduto dal monopattino ieri pomeriggio mentre percorreva una strada della Marina di Monte Nero di Bisaccia riportando un grave trauma alla testa intervenuta un'eliambulanza che ha trasferito il giovane all'ospedale di Pescara dove attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva proprio a causa di questo grave trauma cranico Ed ora andiamo a Campobasso dove sono iniziati gli eventi legati al cartellone della quinta edizione di musica in città in Villa de Capua c'è stata l'esibizione del gruppo Taraf de Gadio e per noi c'era Francesco Adamo Decisamente interessante la domenica a Campobasso per quanti non indotti ad un viaggio verso il mare o la montagna hanno preferito godersi la città ed ancor meglio l'appuntamento con il gruppo Taraf de Gadio presso la Villa de Capua a Campobasso lo spettacolo inserito nel cartellone della quinta edizione di musica in città nello specifico della manifestazione Musica in Villa suggestivo l'orario ore 11 con un pubblico numeroso che nella sua collocazione seguiva la linea dell'ombra fatta dagli abeti secolari grande la maestria del violinista Domenico Mancini insieme a Giuseppe Moffa alla chitarra e Domenico Taresco al contrabbasso musica zigana dell'area europea compresa fra Ungheria Romania e Russia oltre a brani della tradizione Klesmer e Manonche i Taraf hanno perfettamente interpretato questo genere musicale che trasmette libertà forza coinvolgente con i suoi ritmi accattivanti e travolgenti pieni di patos vitalità e passione oltre alla forma musicale tipica dei zigani il Klesmer dicevamo musica popolare ebraica strumentale dell'est Europa musica itinerante particolarmente suonata nei matrimoni e nelle feste prossimo appuntamento in Villa domenica 23 luglio sempre alle 11 con Sirius Accorzion Trio musica 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 Piera Carugno figlia di Mario Carugno medico Capracottese è stata l'arbitro di linea della finale degli internazionali di tennis The Wimbledon di ieri tra Djokovic ed Alcaraz vinta poi da quest'ultimo una grande soddisfazione per lei e per la sua famiglia ma anche un ulteriore motivo di orgoglio per Capracotta a Piera i complimenti della nostra comunità ha commentato a margine il sindaco di Capracotta Candido Paglione andiamo a Doratino dove all'auditorium Altobello è stato presentato sabato il docufilm sul paese curato dall'associazione culturale Monilab poi la serata è proseguita con dei balli in abiti ottocenteschi nel piazzale Ugo Calise in occasione dei cento anni dalla nascita del soprano Maria Callas e per noi c'era Francesco Adamo sabato 15 luglio prima proiezione del docufilm di piazza Molise girato nel comune di Oratino prodotto dall'associazione culturale Molilab laboratorio Molise il documentario è stato presentato all'auditorium Altobello dicevamo prima proiezione del documentario che poi verrà irradiato sui canali di teleregione telisernia e in streaming sul quotidiano del Molise il documentario ha rappresentato un borgo inserito fra quelli più belli d'Italia raccontandone le storie le caratteristiche artistiche monumentali oltre a evidenziarne la grossa vivacità culinaria il filmato che ha visto la partecipazione attiva della cittadinanza ha permesso la ricostruzione storica dell'omicidio del duca vitaliano resa possibile grazie alla collaborazione con l'associazione culturale la mantillana che ha prodotto gli abiti e parte dei figuranti necessari per la ricostruzione delle scene Oratino ha poi offerto un altro spettacolo organizzato dalla società di danza Campobasso spettacolo di danza di tradizione ottocentesca realizzato in occasione del centenario della nascita di Maria Callas un tuffo nel passato fra danze e raffinatezze ed eleganza dei costumi una serata speciale nella splendida cornice del belvedere Ugo Calise e siamo in chiusura del nostro TG prima di salutarci come sempre diamo uno sguardo alle previsioni del tempo il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino benvenuti al meteo di TV Molise siamo nel clou di questa eccezionale ondata di caldo africano come si vince dalle grafiche il cuore caldo dell'anticiclone si è portato in queste ore sulla nostra penisola con i massimi pressori a ridosso del martirreno la congiunzione tra la massa d'aria africana con l'umidità dei nostri mari produrrà come effetto un caldo torrido con elevati tassi di umidità per la giornata di oggi lunedì 17 luglio la settimana si aprirà all'insegna del sole e del gran caldo le temperature supereranno la soglia dei 40 gradi in molte aree di pianura e bassa collina la città molisana più attenzionata è Venafro dove il termometro potrebbe attestarsi sui 42 gradi migliore la situazione lungo la costa con temperature più basse anche se in queste zone sarà la notte a rivelarsi la più problematica a causa degli alti tassi di umidità 20 dai quadranti sud occidentali mare calmo temperature campo basso minima 20 massima 38 esernia minima 21 massima 40 termoli minima 27 massima 35 Venafro minima 21 massima 42 previsioni per domani martedì 18 luglio per la giornata di domani il trend sarà pressoché invariato rispetto al giorno precedente quindi ci aspettiamo caldo torrido e temperature oltre la media anche di 10 gradi venti dai quadranti sud occidentali mare calmo temperature campo basso minima 20 massima 38 esernia minima 21 massima 41 termoli minima 26 massima 34 Venafro minima 21 massima 42 ed è davvero tutto grazie per aver scelto l'informazione di TV Molise auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti